oggi siamo qua in questo video oggi vi farò vedere tutte le mie auto di car parking la prima è questa qui la 100 1600 non mi ricordo aspettate cioè lo potete vedere in alto a destra non mi fa già no vabbè fa niente allora voglio iniziare con questa qua che è Toyota super quella vecchia va veloce che me un gatto poi c'è questa qua poi ve la farò pure vedere in azione vabbè questo qua neanche lo compiamo perchè non è una macchina questa qui a pagamento che me l'hanno regalata a pagamento non stanno bene Nissan GTR questa qua con 926 HP Lamborghini un rosso sempre a pagamento me l'hanno regalata da Lamborghini e e avventador o huracan vabbè aiutatemi giù nei commenti se era huracan o avventador spero spero non era questo boh e vabbè poi c'è questa c'è questa 500 coins che sono quelli in alto a sinistra gialli poi c'è questa pagamento m8 bmw m8 fatta stile settore qui McLaren vecchia avevo pure la nuova ma mi sa che l'ho scambiata per questa qua e poi dopo la McLaren c'è Lamborghini veneno vecchia cioè che non hanno fatto un altro che poi scrivete giù nei commenti anche questo ma ne hanno fatta una nuova di Lamborghini veneno tipo 2023 o è sempre rimasta questa perchè non so poi Lamborghini veneno da dorm ragazzi aiutatemi che non non mi ricordo tanto bene poi è mattina adesso sto registrando sto video di mattina quindi beh Bugatti vecchia Bugatti nuova quella nuova da aiuto da ehm ma c'era 500 coins si questa qua che vabbè l'avete già vista ah 1695 HP formula 2 perchè c'è c'è la F1 ma quanto sono indietro ehm vabbè c'è la F2 e la F1 per chi non è esperto di carpello poi c'è questa qua stile poi c'è questa qua anche questa qua mi piace vai me la la regalata c'è la scambiata per la formula 1 però vabbè guardate quanti cavalli c'ha HP 1766 poi vabbè c'è anche questa qua ne ha di più della norma dico il nuovo aggiornamento 1746 HP però la la macchina che ha più HP di tutta è questa è pure l'ultima guardate sembra quella la di Ken Block anzi è quella di Ken Block solo che non è vabbè adesso sono andato su tutte le mie preferite ma se vogliamo contare queste però guarda ho un pochino abbondato con le altre che poi ho solo 33 ah poi c'è pure questa qua che è della polizia mamma mia questa qua è glitch qualche miseria con le sirene è glitch che sta me l'hanno anche questa me l'hanno regalata che non so come che fanno a regalare le loro cose che poi valgono 80.000 volte di più ah e ragazzi se figo vabbè se vi state chiedendo com'è che ho fatto a fare gli interni ne perchè sta messa vabbè se vi state chiedendo com'è che ho fatto a fare gli interni pure su questo ma cosa è che sta succedendo che tutte le macchine sono storte tipo su una bugatti nuova che prima non aveva gli interni allora andate due secondi ragazzi stavo dicendo andate qua dove ho fatto io il cerchio dovete schiacciarlo e poi una volta schiacciato qua dovrebbe apparirvi una scritta di interior una roba del genere schiacciatela aspettate dieci secondi tipo e vi spuntano gli interni però se non lo vedete tipo come a questo tipo come questa che non io l'ho messo io che ce l'aveva già gli interni realistici qua non avevo scritto niente qua e quindi vuol dire che avete già gli interni ah poi guarda memorizzate bene se volete la mia amicizia questo qua è il mio quindi nei commenti se volete fidatemi ancora il vostro non 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 del vostro account di google ma o di apple o ma l'id del car parking allora scrivetemi giù nei commenti nel prossimo video che auto volete vedere che vi faccio che oggi non faccio il tempo quale auto volete vedere in funzione fra tutte queste allora vi dico tutti i nomi se me le ricordo una a uno ah anzi scrivetemi i numeri questa qua è la numero uno numero due numero tre numero quattro numero cinque numero sei numero sette numero otto numero nove numero dieci numero undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette e diciotto chiedetemi fra tutte queste volete fra tutte queste qua volete vedere in funzione al prossimo video ciao anzi no aspetta 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 prima di chiudere il video vi volevo dire mi raccomando lasciate un bel mi piace e cominciate a seguirmi se volete altre parti di questo gioco ciao